Allerta maltempo a Cantiano e a Pecchio, lievi esondazioni, prima neve sulla montagna, le sciovie incrociano le dita, fondo affitti, raffica di richieste a Pesaro e Fano, a Pesaro si studiano progetti per una città più accessibile, cultura via a teatro oltre e classici per un anno. Buona serata a tutti voi pubblico, di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, ben ritrovati al telegiornale del canale 80, notiziario che in questo martedì 17 gennaio apriamo con quella che è stata una giornata particolarmente caratterizzata dalle precipitazioni in tutto il territorio provinciale, specialmente al mattino. A tal proposito i vigili del fuoco sono intervenuti nei territori di Apecchio e anche di una Cantiano che ha vissuto oggi con la paranoia di quanto accaduto quattro mesi fa. Nei due comuni in questione si sono registrate esondazioni contenute di piccoli corsi d'acqua che hanno portato ad un paio di episodi di allagamento in alcune fabbriche della zona. Le immagini che vi mostriamo sono state postate e commentate anche dal sindaco di Cantiano Alessandro Piccini per sottolineare ancora una volta la fragilità di un territorio che oltre a ristori e contributi per gli interventi di ricostruzione ha quanto mai bisogno di interventi di regimentazione idraulica. Per tutta la giornata è rimasto alto il monitoraggio di vigili del fuoco e operatori di marche multiservizi. E a tratti queste precipitazioni sono diventate anche neve o nevischio nelle nostre montagne. Montagne che ancora arrivati alla seconda metà di gennaio non sono mai state di fatto imbiancate dalla coltre bianca della neve. Ecco allora che per chi lavora con il turismo invernale si incrocia le dita per questo weekend. Si incrociano le dita che sia il weekend buono per vedere finalmente imbiancate le montagne dell'Appennino Pesarese. Lo sperano gestori di impianti di risalita, rifugi e attività che di fatto arrivati alla seconda metà di gennaio non hanno ancora mai visto quella neve utile a far partire la stagione invernale della montagna. Le precipitazioni di queste ore annesse ad un calo delle temperature invitano ora ad un cauto ottimismo. Fortunatamente da ieri è iniziata a nevicare quindi dovrebbe continuare per la giornata di oggi e anche per i prossimi due giorni quindi vediamo alla fine di queste quattro giornate quanta ne sarà venuta. Noi siamo fiduciosi perché le previsioni danno almeno una cinquantina di centimetri di neve che dovrebbe proseguire anche per la prossima settimana. Quindi noi siamo pronti e si parte praticamente dopo tanta attesa quindi speriamo bene che la stagione duri a lungo come spesso avviene nelle nostre montagne dell'Appennino che si può trarre fino a fine marzo anche i primi d'aprile a volte. Allora impianti che quest'anno ancora non sono mai stati aperti. Per adesso diciamo la stagione puramente invernale è un po' da dimenticare. Abbiamo lavorato bene comunque con il rifugio però come neve niente. Adesso sta ancora piovendo però si prevede un deciso calo delle temperature nelle prossime ore e dovrebbe fare almeno 50-60 centimetri di neve che ci potrebbero permettere di aprire gli impianti adesso il prima possibile. Noi siamo pronti. Aspettando il salto di qualità che solo la neve può dare la montagna anche sotto le feste natalizie se l'è cavata con attività legate al trekking al bike. Il Monte Catre è l'unica montagna degli Appennini e diciamo dalle poche in Italia che rimane aperta tutto l'anno con la cabinovia e il rifugio per gli appassionati non solo della neve ma di tutti gli altri sport quindi le camminate, chi vuole andare a cavallo, chi vuole semplicemente raggiungere il rifugio per mangiare e gustare i nostri piatti. Per quanto riguarda invece la neve no perché come sapete ancora non c'era la possibilità di aprire perché per aprire le piste serve almeno una nevicata di 30-40 centimetri. Naturalmente ci siamo organizzati in maniera diversa e abbiamo lavorato molto bene, l'affluenza è stata molto buona, fino adesso è stato un clima ideale per camminate, bike e tutto quello che ruota intorno alla montagna senza neve, però comunque ci siamo difesi abbastanza bene. Naturalmente la neve fa la differenza, quello sì. Oggi nel Consiglio regionale l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha risposto all'interrogazione del gruppo assembleare del PD con prima firmataria Michela Vitri con cui si chiedeva chiarezza sull'indennità Covid ai lavoratori in somministrazione nella sanità marchigiana. Saltamartini ha riconosciuto che sono ben 39 e non 7, come ho comunicato erroneamente in precedenza, al Ministero della Sanità i precari a cui la Regione è tenuta a erogare la premialità Covid di 792 euro. Si è detta invece preoccupata la consigliera Cinque Stelle Marta Ruggeri per la mancata stabilizzazione di questi lavoratori che operano da molti anni con contratti precari rinnovati ogni sei mesi. Stabilizzazione che Saltamartini ha giudicato pura demagogia in quanto pratica accessibile solo tramite concorso. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di emergenza abitativa. A Pesaro sono tante le famiglie che faticano a trovare casa e appartamenti e sono sempre di più quelle costrette a richiedere sostegni per pagare l'affitto. Termometro di questa situazione è il fondo affitti del Comune di Pesaro che ha aumentato di 300 domande in un solo anno. Il 2023 per l'assessorato ai servizi sociali si apre con un momento importante. Quello che vede la chiusura del fondo affitti del Comune di Pesaro è l'imminente erogazione dal mese di febbraio alla luce delle domande pervenute, domande che sono molto aumentate da un anno all'altro. C'è un contributo importante col fondo affitto quest'anno perché sono mezzo milione di euro ma ci sono tante domande, 300 più del passato, quindi siamo sulle 1.080, a giustificare il fatto che effettivamente c'è una problematica e sono risorse che sono importanti per sostenere le famiglie. Questo contributo si aggirerà dai 600 ai 300 euro a richiedente in base alla fascia A o B in cui erano inserite, però sono fra altre interventi che abbiamo fatto, sono interventi importanti per i pesaresi. Ecco, questo intervento è anche un termometro di una certa emergenza che viene completata anche dalla difficoltà nel trovare case, affitti. Come comune state intervenendo anche col primo progetto di housing sociale a Villa Ceccolini in tal senso? Sì, ci stiamo attivando in maniera diversa perché il problema c'è ed è articolato, quindi è affrontato in maniera diversa. Un intervento importante è quello dell'housing sociale che è partito in Villa Ceccolini che prevede una tantina di appartamenti riservati a famiglie in difficoltà. Abbiamo fatto anche in quest'estate però abbiamo fatto uscire anche un bando, una manifestazione di interesse con il terzo settore che richiedeva al terzo settore di individuare degli spazi e fare una progettualità condivisa col comune a sostegno abitativo delle famiglie. Abbiamo avuto la risposta ad esempio della parrocchia di Borgo Santa Maria dove ci sono inserite tre famiglie e speriamo lì di lavorare meglio e di trovare altre soluzioni ma ci stiamo attivando anche con percorsi paralleli. Anche in ragione del fatto che c'è stato il bando ERAP in questi giorni che poi uscirà in estate ma la disponibilità di case dell'edilizia popolare non è tanta e quindi bisogna trovare soluzioni alternative per dare risposta abitativa ai cittadini. E restando sull'argomento è stata Fano, la città che ha ricevuto dalla regione il contributo più alto delle risorse del Fondo Nazionale per il Sostegno del Pagamento degli Affitti con ben 788 mila euro. Decisiva la volontà delle comune di integrare con risorse proprie questo intervento per il secondo anno consecutivo. Fano dunque premiata dal meccanismo di erogazione regionale che riconosce di più a quei comuni che aggiungono ulteriori fondi a quelli previsti. Le risorse soddisferanno il 66% delle domande ammesse a finanziamento. Ed è partito ieri sera nelle comune di Pesaro il primo di una serie di incontri dal titolo Cultura Accessibile. Incontri che puntano a creare un lavoro di squadra avvolto a ragionamenti condivisi sul miglioramento della città all'insegna della eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo parlato con il Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro Marco Perugini. Già dal 2022 in seguito agli stati generali dell'accessibilità che per la prima volta hanno avuto luogo a Pesaro ad aprile sono emerse tante proposte, tante criticità che abbiamo messo subito in azione. Quindi abbiamo commissionato la redazione del PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che mi vede, oltre a essere Presidente del Consiglio, a portare avanti questa grande funzione delega di accessibilità e redazione del PEBA da parte del Sindaco. Quindi entro il 2023 avremo il piano di eliminazione delle barriere architettoniche ma nel frattempo abbiamo attivato tutta una serie di azioni che ci consentono di creare cultura sull'accessibilità. E farlo in maniera pragmatica e concreta è molto difficile e abbiamo voluto mettere in campo questo progetto sperimentale che si rivolgerà agli operatori, tutti coloro che vengono in contatto con il pubblico, con persone che hanno disabilità motoria, con persone che hanno disabilità sensoriali, con persone affette da autismo. Questo ci permette di creare quella comunicazione che spesso manca, oltre al fatto della mancanza o la presenza di barriere architettoniche, tutto quello che possiamo fare noi individualmente, personalmente di fronte a queste criticità. È spesso quello che capita appunto questo, nell'esempio di un autobus dove è presente una pedana per eliminare la barriera, dove sono presenti tutte le tecniche e le funzioni in ausilio alle persone con disabilità, spesso si interrompono nel momento in cui un operatore non è in grado di recepire, concepire e interagire con la persona che in quel momento ha bisogno e vuole comunicare qualcosa. Quindi sono partiti questi incontri, ieri il primo con Adribus che ha voluto inserire, ha sposato subito questa causa, per questo ringrazio la Presidente e il Direttore di Adribus che ha inserito questo progetto nella formazione obbligatoria di tutti gli autisti, autisti che faranno dei focus group insieme a dei testimoni e a delle esperienze di persone con disabilità, quindi i sordi, i ciechi, le persone con disabilità motoria. La nostra garante Marusca Palazzi che ha steso e ha realizzato questo progetto cercandone di trovarne l'efficacia migliore e con cui abbiamo iniziato questo lavoro. Saranno oltre sei gli incontri solo con gli autisti in quest'anno e abbiamo voluto allargarlo anche a Fano e Urbino proprio per intercettare tutti gli operatori dell'azienda di trasporti pubblica locale, ma continueremo anche con i commercianti, con gli albergatori, con tutte quelle categorie e persone che possono avere necessità di imparare e capire empaticamente e individualmente come interagire con queste difficoltà e interagire con altre persone. Illuminazione della zona verde fra via Frescobaldi e via Bini a Villa San Martino, il lavatoio dei pensieri di Monte Ciccardo, la riqualificazione della zona ricreativa di Via Lancisi a Pozzo Alto e un nuovo parco Olaf Baden Powell nel quartiere Soria Tombaccia. Sono questi i quattro progetti dei quartieri finanziati dalla seconda edizione del bilancio partecipativo del Comune di Pesero presentati oggi dagli assessori Pozzi e Nobili. Uno stanziamento che rispetto all'anno scorso passa da 100 a 120 mila euro con 30 mila euro per ogni progetto. Bilancio partecipativo che contemplerà altri 79 mila euro per interventi di piccola manutenzione negli altri nove quartieri della città. Vi ricordiamo che questa sera alle 21 all'hotel Baia Flamina di Pesero è presente Stefano Bonaccini che è candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico così come candidata Paola De Micheli che sarà invece a Pesero domani alle 17 quando nella sala del Consiglio Comunale presenterà il suo libro Concretamente prima le persone, un volume nel quale l'ex ministro delle infrastrutture spiega le ragioni della sua candidatura. A Pesero dialogherà con i giornalisti Luca Fabri e Roberto Fiaccarini. E domani nuovo appuntamento nel ciclo di incontri dell'Associazione Culturale Storia e Nazione che per il 18 gennaio propone una conferenza dal titolo Storie di Pesero Nazione con l'intervento di Fabio Massimo Aromatici in collaborazione con Storie di Pesero. L'appuntamento è alle 18.45 all'Alexandria Museum Palace Hotel di Pesero. E sempre domani al teatro sperimentale parte la diciannovesima edizione di Teatro Oltre, una rassegna proposta da Amat che scatta appunto domani con il primo di 36 appuntamenti sparsi in 13 città marchigiane. Alle soglie del suo ventennale la rassegna Teatro Oltre ideata da Amat per mettere in rete i teatri della provincia di Pesero Urbino amplia la sua offerta lanciando una diciannovesima edizione con sconfinamenti fuori provincia in una proposta di 36 appuntamenti fra teatro, musica e danza in 13 città. Ad aprire il sipario sarà proprio la danza il 18 gennaio allo sperimentale di Pesero con la prima ed esclusiva regionale di Beat Forward Studio che segna la collaborazione tra Igor Formoreno e collettivo Main. Il 28 gennaio sarà invece il teatro Tiberini di San Lorenzo in campo ad ospitare il cuore, la milza, il lago di Cromos III. Primi due di 36 appuntamenti che si estenderanno fino al mese di giugno. Proviamo a descriverlo come un passaggio da programma a progetto, anzi a dispositivo in qualche modo di attrazione e presentazione della scena del presente. Ci siamo accorti appunto che Teatro Oltre, la soglia dei vent'anni, poteva diventare una proposta importante per un territorio più ampio di quello che solitamente ha toccato, in cui si è svolto. Penso in particolare appunto il protagonismo di Pesaro con Fano e Urbino e le città della rete della provincia di Pesaro Urbino, ma l'abbiamo appunto trasformato in qualche modo, anche se in maniera iniziale, appunto in un dispositivo per cui proposte legate alla scena del presente potesse essere presentate poi sui palcoscenici di tante città diverse, da Scolipiceno insomma a Senigallia, superando il confine geografico, appunto dando a questo progetto una forma in qualche modo nuova nella continuità. Spettacoli e artisti a 360 gradi. Vedi Alessandro Bergonzoni che si esibirà ad aprile a Fabriano e Fano col Teatro della Fortuna che ospiterà il 28 febbraio anche chi ha paura di Virginia Wolf con Sonia Bergamasco e Vinicio Marchionni. Mondavi ospiterà il monologo Smarrimento di Lucia Mascino, Urbino, Stefano Sabelli con figli di Abramo. Il Teatro della Concordia di San Costanzo vedrà in scena Apocalisse Tascabile. Cagli vedrà il ballo ispirato ai canti russi della Compagnia Mora, Leone d'Argento alla Biennale di Venezia 2020. Al Teatro Angel dal Foco di Pergola spiccherà la performance Tycoons, a Fossombrone le atmosfere di Joa de Vivre. Pesaro vedrà anche Emma Dante il suo tango delle capinere al Teatro Sperimentale e la prima nazionale del 18 febbraio alla Chiesa del Suffragio di The Present is Not Enough, progetto di Silvia Calderoni e Elenia Caleo. Dall'Odissea al Dererum Natura, dall'Orlando Furioso fino ai Promessi Sposi. Un elenco che si allunga a 12 opere immortali per 12 mesi che confezionano il ciclo di appuntamenti classici per un anno ideati dall'Università dell'Età Libra per approfondimenti e letture nei principali luoghi culturali della città. Da Omero a Manzoni, passando per Virgilio e Leopardi, si alza il sipario su classici per un anno, un ciclo di 12 incontri, uno al mese, che invita a riscoprire il gusto della letteratura degli autori del passato. Una serie di appuntamenti tra gennaio e dicembre 2023 che saranno ospitati da diversi luoghi storici della città di Pesaro, come Palazzo Ducale o Villa Caprile, ma anche Palazzo Montaneantaldi e i musei civici. Il debutto è fissato al 20 gennaio alle ore 18 alla Biblioteca Oliveriana, con l'incontro dedicato ad Omero e alla sua odissea. Sono 12 preziosi occasioni per riscoprire, diciamo, da Omero a Manzoni, tante meravigliose pagine dei nostri classici. Li chiamiamo classici perché, come li definiva Calvino, appunto non hanno mai smesso di parlarci e noi non vogliamo mai smettere di ascoltare quello che hanno da dirci, che ha sempre molto a che fare con noi, proprio anche con la nostra vita davvero contemporanea. Sono 12 incontri che si svolgeranno però in sette luoghi diversi, i luoghi più preziosi della nostra città. Le pagine saranno raccontate da tre grandi studiosi come Enrico Capodaglio, come Claudio Rondolini e come Chiara Agostinelli e saranno accompagnate anche della lettura e delle voci dei libri, da 48 voci dei libri diversi che si alterneranno in queste letture dai 18 agli 80 anni, provenienti veramente da formazioni diversissime. Questo perché, come sempre amo dire, lo studio, la bellezza non sono un dovere ma sono un diritto assolutamente per tutti. Quale sarà la chiave di lettura di questi incontri? Beh, devo dire che l'esigenza che ci muove è quella di far incontrare alcuni classici della letteratura, non solo italiana, muovendo dalla Grecia antica, con i bisogni, le esigenze, i sentimenti dei contemporanei. Perché il classico è qualcosa di canonico, di durevole nei secoli, ma esso nasce anche dalle paure, dai bisogni, dalle mancanze della vita concreta di ciascuno di noi. E quindi c'è un'intimità nel legame col classico che si può guadagnare e scoprire, anche per la prima volta, da parte di persone che magari non hanno coltivato studi umanistici o non hanno mai letto, non sono solite leggere. Perché i classici da secoli parlano al cuore, alla mente di donne e uomini di varie epoche e di vari continenti e quindi c'è una ragione profonda. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci, vi ricordo la nostra prima serata che è dedicata alla musica. Vi riproporremo il concerto dell'Epifania 2023 nelle quarantennale del coro San Carlo di Pesaro. Appuntamento appunto questa sera alle 21.20, con repliche anche venerdì alle 15.30 e domenica alle 18.30. Torna invece puntuale domattina all'appuntamento con la nostra segna stampa Buongiorno Rossini, come sempre in diretta dalle 7.20. A tenervi compagnia domattina ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi. Ed è tutto invece per questa sera. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV.